Calcio dilettante del mercato, che si chiuderà a inizio anno nuovo, non smette di regalare su Sulti a Montemiletto un poker per sgambati, dopo De Musis e Francesco Vacca hanno sposato l'unicello Verdi, gli ex Lions Glotta, Raffaele Villanova e sono campista Brogna, quest'ultimo standard rumors sarebbe stato cercato anche dal Cervinara, l'altro ritorno è quello di Rebba, che ha già conosciuto la piazza montemilettese nelle ultime stagioni, anche un giovane per sgambati, sempre da Lions Glotta, che porta il nome di Barbato. A Baiano arriva da Lions Glotta Cristiano Ronca, primo rinforzo dell'era Criccitiello, attaccante classe 2003, per Flamia De Mare invece non si è trovato l'accordo con quest'ultimo che potrebbe adesso sposare il Bonito in prima categoria. Salvatore Sicuranza ha ricevuto più di un contatto con Lions Glotta per sostituire l'Alessandro, ma quando l'ex trainer di Lioni e Bisaccesa ha presentato le sue richieste e le sue garanzie, non ha trovato l'accordo con il club giallorosso, che ha detto addio anche al dirigente Giuseppe Capano, l'ha detto alla comunicazione. La diaspora che ha colpito la Lions Glotta non finisce qui, anche Volzone è la ricerca di un nuovo team. Hanno lasciato praticamente tutti. Panico Mezzala, ex giovanile Lavellino, dovrebbe accasarsi alla Savignanese, mentre Morra, portiere, under, va verso l'apice. A San Martino Valle Caudina arrivano alla corte di Mario Loiaco due centrocampisti, si trattano di Gennaro Giordano, classe 2004, dall'Arienzo ed ex Audax Cervinara. E poi Daniele Dello Iacovo, classe 94 dal Vitulano, diretta concorrente per la promozione, ha giocato in Valle Caudina con le maglie di Cervinara e Montesarcio e per lui un'esperienza anche allo sporting Pietrelcina.